Oddio, ma dove cazzo sono finito? Wow, cos'è questo posto desolato? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Siamo in mezzo all'oceano ragazzi, ma beh, sapete già su cosa siamo? Beh, siamo sulla Oceancraft ragazzi e benvenuti su Minecraft, io sono Alex Shalla. Però in questa serie non sarò da solo, cominceremo una nuova serie con una nuova persona e con noi c'è Roshi. Ciao a tutti ragazzi, bella, dopo un po' che sono stato fermo a non caricare video nel mio canale, sono ritornato con questa nuova serie insieme a Shalla. Adesso iniziamo. Allora ragazzi, cominciamo subito a buttare l'albero giù, che è la cosa più importante di questo fottutissimo pacchetto, cioè non pacchetto, ma di questa fottutissima mappa. Vai su, muoviti. Ci mette un po'? Ah sì, perché siamo in acqua purtroppo. Esistente, voglio evitare di rompere le foglie, perché va a finire che non ci troppa l'alberello e dopo vogliamo morire. Rompiamo questo qui. Allora, perfetto, abbiamo chiuso l'acqua dentro. Entriamo qui dentro. Allora, ragazzi, nel frattempo che lui taglia l'albero, vi daremo gli obiettivi. Io metto un attimo in pausa il gioco, come voi vedrete, e comincio a dettarvi quello che vorremmo fare. Costruire una casa. Beh ragazzi, sapete come costruisco io le case. Faccio sempre delle grandezze assurde e bellissime. Poi fare una fattoria, costruire una fattoria automatizzata di cactus. Puoi fare una farm, insomma. Una farm di campo di grano, un mob grinder, una torre, tutti gli utensili di diamante, tutto il full set. Costruire un faro, una foresta, una piccola cascata con un lago e costruire una ferrovia tutta intorno alla casa, cioè tutta intorno all'isola. Come al solito voglio che, appunto, voi siete partecipi alla mia serie, per cui, come al solito, voglio che mi diate delle altre sfide, e sempre se la serie vi interessa, cioè comunque fatemi sapere nei commenti e dai mi piace, se appunto volete che questa cosa continui. Perché abbiamo una serie in Unlishiad, abbiamo una serie in Exit, magari fatemi sapere se siete d'accordo, appunto, a cominciare quest'altra serie. Ok, poi per quanto riguarda Royce, troverete la sua, la sua, come si chiama, non mi viene una parola, ah ma ti è uscito un alberello, a stronzo, non ci dici niente. Eh, stavo aspettando che finivi di parlare. Ah sì, perdonatemi ragazzi, io sono il solito che parla sempre. Vai, dici. Eh, è arrivato un alberello in alto dall'alto. Solo questo? Un altro no? In alto dall'alto. Eh vabbè ragazzi, solo uno. Ma ne ho visto cadere anche uno, per caso l'hai preso tu? Non mi sembra, vediamo un po' in acqua. Controllo un po', ragazzi. Eh, perché l'ho visto qua sotto, se non mi sbaglio. Controlla se ti ritrovato. Sì, l'ho preso io, eccolo. Perfetto ragazzi, due alberelli, non ci fanno schifo. Per cui queste foglie le possiamo anche distruggere, sti cazzi. Intanto faccio il legno. Fai una bella crafty. Eh, vediamo un po', io comincio a buttare un po' giù sta terra. Dai, illustraci la cesta. Vi ricordo nella cesta che c'è l'osso, cinque pezzi di osso, semi, pesce cotto, biscotto, venti cordicelle per fare della lana, palla di ferro, una canna da pesca, 32 pezzi di carbone e un diamante. Yeah, chi mai ha cominciato con un diamante Minecraft? Allora ragazzi, facciamo una cosa. Tu fai qualche oggetto, tipo piccone, solo un piccone però, per non buttare la legna. Poi mettiti con la canna in mano e mettiti a pescare un po'. Io vado a prendere la terra che dovrebbe essere qui sotto, sì, infatti eccola qui. Anzi, fai vedere prima ai tuoi bellissimi iscritti la roba che c'è dentro la cesta. Sì, aspetta che sto mettendo la roba nella cesta. Perfetto. Io nel frattempo sto chiudendo l'acqua. Chiudi l'acqua così? Sì, sì. Piano piano. Ti mostro. Perfetto. Comunque ragazzi, come al solito, questa la conoscete, l'oceancraft, con la differenza che non siamo in 1.4.7, ma siamo in 1.6.2. Penso che, credo sia la prima volta che una persona faccia una serie sulla, come si chiama, sulla, non mi viene il nome, sulla ciancraft in 1.6.2. Qui c'è del, stai morendo. Perché sta morendo per l'acqua? Sì, perché ancora non l'avevo tolta tutta. Allora, togliti. Togliti tu. Allora. Apriamo la cesta e troviamo terra, 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 terra. Prendiamo anche il grass block. No, dammi l'alverello, dammi l'alverello, dammi l'alverello. L'ho preso io. Allora. Allora. Un secondo solo, ragazzi, torno subito. Non ho detto niente. Eccomi qui ragazzi, perdonatemi, ma mi hanno suonato al citofono. Scusatemi, perdonatemi, non l'ho fatto apposta. Purtroppo è un orario in cui non si dovrebbe registrare. Diciamo che dovremmo mangiare in questo momento, però questi sono dettagli. Allora. Per problemi. Per problemi. Che non stiamo qui a dire che vogliamo bestemmiare tutti i possibili santi possibili. Anzi, ne inventerei alcuni per poterlo fare. Allora, continuiamo il tutto. Perfetto. Allora. Intanto. Inizio a piantare gli alberelli. Pianto gli alberelli. Allora, continuiamo. E buttano qui. Mettili in modo che la... Quando cadono gli alberelli non vanno in acqua. Allora qui si li mettono più dentro. Esatto, però visto, anche che poi alla fine allargherò tutto, però. Allora, ci servirebbe un po' di roba da mangiare. Per cui, se ti metti a pescare, fai un grande piacere all'umanità. Un altro metto qui. Se aspetti facciamo un po' di tutto. Certo, facciamo tutto, qual è il problema? Allora, mettiamo anche il grass block così comincia a rendersi tutto verde. di carbone per fare la torcia, per metterla vicino agli alberi, così crescono più in fretta. Yes. Perfetto. Perfetto. Mettiamo giusto qualche altra terra qui. Attento a non spaccare il blocco di grass, perché sennò possiamo dire addio alla giant craft. Io direi di, 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 di cominciare a farmare. Allora. Per cui, io c'ho un altro blocco di legno, prendiamo due bastoncini, andiamo nella... Pianti tu i semi? Sì, sì, me lo vedo io. Tu pesca. Pesca, pesca. Pesco? Sì, sì. Perfetto. Andiamo qui. Non sarà tanto bello. Sì, sarà fantastico invece. Fantastico, tanto. Oh, a voglia. Non so neanche come si pesca a dire la verità, eh. Ah no? No dai, non sai pescare, no dai, come fai a non saper pescare? Cioè, guarda lì, mi ha dato solo un seme, ma vaffanculo. Vediamo il sole. Tramontare. Tramontare. Cioè, stai pescando al tramonto, cioè che vuoi di più dalla vita? La Mara Lucana. No, la Mara Lucana no. Allora, ragazzi, sto sprecando qualche ossa, ma sti cazzi, in questi casi, perché abbiamo bisogno di mangiare. Mi ha dato la cosa? Mi ha dato tutto? Sì, perfetto. I pesci sono andati a dormire, non aspettono me. Allora, ma me lo vedo io, dai. Allora, dov'è la canna? Dentro qui? Perfetto. Ci provo io. Allora, intanto, dammi la pala, che scendo sotto. Aspetta. Per prendere un po' di... Oh, Cristo, Cristo! Sto, oddio, aspetta. La buttata sotto. Guarda a prendere. Piccolo fail di Alex Shalla. La prendi. Ok, l'ho presa. Mi sto imbrogliando io e i tasti. Allora, ritorniamo su. E ridiamo la pala, che appunto serve. Allora, ragazzi, vediamo un po' di pescare qualcosina. Vediamo un Alex Shalla pescatore. L'Alex Shalla pescatore vive su una isola sperduta. Ma la cesta l'ha lasciata sotto? Sì, sì, sta ancora lì. Ho pescato il primo pesce. Non ci fa schifo. L'Alex Shalla pescatore è lì ad aspettare. Aspettando che appunto i pesci abboccano. Ne ho perso uno, yeah! Entra da qui l'acqua, non me ne sarei... Non te ne saresti mai accorto, di la verità. Saresti accorto, no. E fu così. Fanculo acqua. Che tutti gli iscritti se ne andarono, perché Alex Shalla non faceva un cazzo. Ma che cazzo sto combinando? Che stai combinando? Un casino. Se non lo sai tu. Prendiamo le ceste. Oh, e dai, abboccate. Cioè, ho fatto tutto il carino, ho preso il primo pesce, poi non arrivo più niente. Sono pieno. Vai a posare qualcosa. Devo posare la cesta per prendere l'altra terra. Oh, e dai, yeah! Aspetta. No, devo posare. La terra per prendere le ceste. Yeah. Il contrario. Cioè, niente pesci, oh. Ci servirebbe anche un po' di pietra. Perché se vai a prendere la pietra, nemmeno quella ci fa schifo. Eh. Si aspetti. Sì, ma io aspetto tutto il tempo che vuoi. Sono pieno di terra. Mi aspetto tutto il tempo che vuoi. No, affanculo, mi ha fatto il bluff la canna da pesca. Ok, più, no. L'ho messo sulla terra, perfetto. Lascio tutta questa terra. E scendo sotto. Dai, su. Fai il bravo. Pesca, pesca. No, ma no. Ah, ok, ce l'ho fatta. Siamo già a due pesci. Che dobbiamo cucinare i pesci. Sanculo, acqua. Allora. Ragazzi, come al solito, questo sarà solo un video di presentazione che durerà sui 10-15 minuti. Per cui, come al solito, fatemi sapere nei commenti se appunto è quello che vorreste vedere. un bel Alex Shalla che pesca. La nostra serie sarà solo sulla pesca. Faremo tante lezioni di tutorial sul come pescare. Siamo già a tre pesci. Alex Shalla tutorial pesca. Yes. Come pescare in Minecraft. Sarà un tutorial guardato da tutto il mondo. Non si c'è che niente qua sotto. Mettiamo una torcia. Sì, vai, vai. Non arriva manco un pesce. Vabbè, siamo già a tre. Non ci fanno schifo. Quest'acqua la trovo soltanto io. Sempre io trovo acqua. Allora. Per cui, il verde sta cominciando ad uscire. Perfetto. Diciamo che peschiamo l'ultimo pesce e chiudiamo il video. Prendo un po' di pietra. Sì, vai, vai. Prendine almeno un 14. Allora, dai, su. Pesca. Dai. Ne prendo un po' per fare... Sì, ci servono almeno 8 per la fornace. 3 per il mio piccone e 3 per il tuo. Per te. Per cui dovrebbe essere 14. Almeno per il momento, poi scendiamo a prenderla tutta. Allora, siamo già a quattro pesce. Aspettiamo giusto che Roxy risale. Ti stavo chiamando Roxy, non so perché. Sì, ho sentito. Tutti sono dettagli. Tutto sono dettagli, ragazzi. La vita è piena di dettagli. Oh, mazza, manca un... Voglio un pesce, dai. Ok, mettila per terra. Tieni. Cucina. Sì, corri in cucina, donna. Faccio quattro torce. Oh, cazzo, ho buttato il carbone. Dove l'ho buttato? Non ce l'ho preso io. Passamelo. Ma hai buttato tutto? No. Quanto ne hai buttato? Scusa. 30. No, stanno... Oddio. L'ho messo nella cesta di nuovo? Adesso stanno nella cesta. Vado a prendere altra... Ma vaffanculo, era boccato subito e il pesce non ci ha fatto caso. Pietra. Allora. Per cui, ragazzi, io penso che possiamo anche chiudere il video qui. Mi raccomando, lasciate dei bei like sotto al video. Sia sul mio canale... È cresciuto un altro albero, yeah! Sia sul mio canale che su quello di Roxy. Per cui, ci vedi... Ti ricordo che... Parla, parla. Vai. Posso parlare un po'? Posso? Perdonami. Posso? Ti ricordo che... Nella descrizione del video ci saranno i nostri canali. Spolliciate il video. Ci saranno anche gli obiettivi. A te la parola. E quelli che appunto aggiungerete voi puntata per puntata. Ci vediamo. Come al solito nel prossimo video, lasciate i commenti qui sotto con tutto quello che avete da dire. Iscrivetevi ai canali se non l'avete ancora fatto. Salutiamo Roxy che chissà in quale caverna sperduto sarà. Ciao a tutti ragazzi. Io sono sempre Alex Scialla ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.